Si continua a indagare sul cluster Venezuela. L'obiettivo delle autorità sanitarie è definire compiutamente la catena epidemiologica che è partita dalle due famiglie sudamericane arrivate a Campobasso il 7 luglio e che da allora sono ospiti di due parrocchie della città. L'ASREM sta procedendo esattamente come è accaduto per il focolaio scoppiato nella comunità Rom, quindi ha preso informazioni sui contatti delle prime persone risultate positive cioè madre padre tre bambini seguite da altri quattro connazionali e ha avviato analisi a tappeto. Nell'arco di poco più di due giorni sono state sottoposte a tampone ben 412 persone tra cui i bambini del campus estivo che era frequentato da uno dei piccoli venezuelani. Qui il titolare ha spiegato che il bimbo era stato nel centro solo quattro volte, ha consegnato la lista degli eventuali contatti all'ASREM e ha proceduto poi alla sanificazione dei locali. Dai test processati ieri è emerso un nuovo caso, sempre un sudamericano e ora sono 14 le persone positive relative a quel cluster. In totale però in Molise sono 18 i cittadini che risultano ancora contagiati, 14 a Campobasso appunto, due a Isernia, una a Macchia Godena e uno a San Giuliano del Sannio. Grande lavoro per il laboratorio di microbiologia del Cardarelli che sta processando tamponi a tappeto. C'è un cauto ottimismo però in quanto la catena pare circoscritta e mentre si attende l'esito degli altri test 56 persone risultano in quarantena. Intanto padre Giancarlo Liquadricassini, parroco di Sant'Antonio di Padova, ha spiegato come sono andate le cose dall'arrivo dei venezuelani. Questa famiglia è arrivata qui a Campobasso il 7 luglio e il 9 luglio si sono presentati alla questura appunto mostrando la dichiarazione di accoglienza. Mi hanno riferito perché chiaramente io non c'ero che hanno dato udienza per questo tipo di pratica il 13 agosto. Questa famiglia non ha avuto a che fare con nessun nostro parrocchiano. Loro non avevano effettuato neanche un test sierologico quindi comunque non hanno frequentato la chiesa ma hanno fatto una vita normale, hanno dato per la città. No, sì, chiaramente il problema è che si sono incontrati con i loro nazionali quindi allora perciò il problema è che è aumentato un po' il numero dei positivi. Io spero e immagino e mi auguro che il fenomeno si rinconcenti soltanto con queste due o tre famiglie appunto nelle in Svelania. Grazie a tutti.